Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori ci sono rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze e tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Sempre in FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Tratto chiuso per lavori al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno della FIPILI per una frana avvenuta proprio in FIPILI al chilometro 79 e 865. Il traffico al momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!